ho invitato per un tè il dolore e la paura non abbiamo detto nulla e nessuno ha sorriso ma stare viso a viso con qualcosa da bere ha tolto qualche spina alle inutili barriere che ci fanno temere ciò che non conosciamo i invitato per te Mr. Payne e Mrs. Fear nobody spoke, none of us smiled but sitting vis-a-vis with something to drink remove some thoughts from those useless walls which make us fear what we don't know so Grazie a tutti. Grazie a tutti.